Ciao a tutti, eccoci tornati in diretta un'altra settimana, un'altra live per farvi compagnia, per tenervi compagnia in questo periodo. Oggi siamo con Benedetta Lucarelli, come avete visto dalle stories, una giovane accompagnatore di media montagna, maestra di snowboard. Eccola, la vedo già in linea. Tendiamo qualche secondo che si colleghi Benedetta. Eccoci, mi sentite, ciao. Ciao, come stai? Bene, dai, bene, bene. Tu? Grazie, non c'è male. Allora, sei secondo me la più giovane, diciamo, protagonista delle live di donne di montagna finora. Ho questo onore. Allora, ho già appunto pubblicato le stories, dove avevo lasciato anche il link con l'articolo della tua storia, che potete trovare sul nostro blog www.donnedimontagna.com. Allora, come ho già detto, tu sei giovanissima, hai 22 anni, ma sei già accompagnatore di media montagna, sei una maestra di snowboard e stai, diciamo... Sto finendo il corso. Stai finendo il corso per diventare guida alpina. Partiamo dall'inizio, partiamo dalla tua storia. Tu vieni da Ravenna, vieni fondamentalmente dal mare. Sì, infatti mi piace dire che sono nata molto più vicino al mare rispetto alle montagne di quanto uno può pensare, no? Certo, parti se vuoi raccontarci proprio la tua storia. Sì, allora, io come ho detto sono nata a Ravenna, dove mancano completamente le montagne, non si vede neanche un accenno di montagne, però la mia famiglia ha sempre avuto una casa in Val di Fassa, dove trascorrevamo l'estate, le vacanze. Ed è successo appunto che quando avevo tre anni, mio babbo mi ha portato ad arrampicare per la prima volta nella struttura qui a Campitello. A tre anni? A tre anni, sì. Ho ancora le foto, mi ricordo c'eravamo sia io che mio fratello, il mio fratello è un po' e lui non aveva proprio lasciato un bel ricordo. Per me è stato proprio amore a prima vista, cioè il poter salire in cima anche solamente a una parete di plastica, per me era qualcosa di assurdo, cioè era proprio esprimermi, no? Potermi esprimere già allora. Perché un inciso tuo padre a guida alpina? No, mio babbo è un appassionato in realtà. Ok, ok. Non è una guida, non è un maestro di sci, però è un fortissimo appassionato e il suo ruolo nella mia storia legata alla montagna sarà fondamentale. Lo è stato, lo è adesso e lo sarà. Allora io a tre anni ho provato allora ad arrampicare e per un po' è stato un gioco, no? Venivo qua in Val di Fassa, potevo arrampicare e salire qui nella palestra. Poi ho scoperto che a Caravenna c'era una società di arrampicata e ho deciso di iniziare a scalare anche nella mia città ed è diventata l'arrampicata il mio sport principale, no? E lì ho trovato grandissimi amici, quindi il nostro gruppo di allenamenti era proprio stare con le persone a cui volevo più bene, no? Quindi ci divertivamo insieme, miglioravamo, imparavamo nuove cose, imparavamo a conoscerci e abbiamo iniziato anche a fare le gare, quindi tutto l'iter del percorso delle gare giovanili a livello regionale, nazionale, con qualche piccolo raduno internazionale, facendo tutte e tre le discipline dell'arrampicata che ci sono anche adesso, però erano un po' diverse, no? Adesso le gare sono molto strutturate, molto organizzate. Quando abbiamo iniziato noi erano un pochino più un gioco anche quello, no? Anche solo la velocità, per dire, adesso c'è la parete ufficiale con il record del mondo, da noi all'inizio addirittura si partiva girati di schiena, 3D1, facevi un metro di corsa e iniziavi a arrampicare, cioè era proprio completamente diverso. Ok, diverso, sì certo, meno strutturate. Molto meno strutturato. Dopo, continuando appunto a arrampicare lì in palestra, mi divertivo, ma sentivo che mancava qualcosa, no? Ok. Per quanto le gare fossero interessanti, divertenti, stessi bene coi miei amici, volevo qualcosina in più. E allora sempre mio babbo mi ha portato a arrampicare in Falesia per le prime volte. E già lì ho visto che qualcosina in più c'era. Per poi passare a fare la prima via alpinistica. Qual è stata? È stata la via Steger alla prima torre, nel luglio del 2008. Quella via parte dal fatto che mi ha cambiato la vita. L'ho fatta con mio babbo e con una guida alpina-fassana, Luca Prinot, che è stato un primo buonissimo esempio che porterò sempre con me in quello che farò. E se penso a quella via, mi ricordo, è una via di quarto, quarto più. Però per me il passo chiave era uno strapiombo. E non so perché, ma nella mia testa è rimasto uno strapiombo e rimarrà sempre uno strapiombo. E arrivata in cima a quella via, ho capito che quello era il mio mondo. A me piace stare in mezzo alla natura, mi piace stare in montagna. e ho deciso che sarei diventata guida alpina. Che quello sarebbe stato... Quindi tu già a nove anni sognavi di diventare guida alpina. Le altre bibbe sognano altre cose e tu volevi diventare... Di solito a nove anni si sogna di diventare principessa. Ecco, io sognavo di diventare guida alpina. No, dai, proprio principessa no. Però dai, adesso i sogni delle bambine sono forse un po' più concreti. No, certamente. Però sicuramente che sognano di diventare influencer o... Eh sì, è un po' diverso rispetto anche ai miei anni. Esatto, magari sognano di diventare influencer, ecco. Sì, sì, sì. No, io sembra strano, ma veramente già allora, avendo conosciuto Luca, questa guida alpina, volevo, volevo diventare assolutamente guida. Allora poi ho continuato a scalare in montagna, a scalare in palestra, in falesia, facendo poi a... mi scondi a me, era al 2010, in dodici anni la prima via da Capocordata in Dolomiti. Sempre la prima torre, un'altra via di quarto, mi pare. Certo. Continuando questo percorso, sono arrivata in seconda media, dove ho scoperto l'esistenza dell'Istituto della Montagna. L'Istituto della Montagna è una scuola che si trova a Tione, è l'unica scuola in Italia di questo tipo. Qual è la particolarità di questa scuola, per chi non la conoscesse? Allora, la particolarità è che è un liceo scientifico, per quanto riguarda la parte scolastica. In più, si affrontano tutte le discipline della montagna, dello sport di montagna. Quindi, dallo sci alpino, all'arampicata su ghiaccio, all'alta montagna, allo sci alpinismo. Alla fine di questo liceo, si ha la possibilità di sostenere l'esame di una delle tre discipline invernali per diventare maestro, quindi o sci alpino o fondo o snowboard, l'esame da accompagnatore di media montagna e la possibilità di presentare il curriculum per accedere ai corsi guida alpina. Tutto questo io non lo sapevo neanche quando ho iniziato il liceo. Io ho scoperto che c'era questa possibilità, ho costretto i miei genitori a portarmi a parlare con il responsabile della scuola già in seconda media e dopo questo incontro ho detto ok, è fatta, quello è il mio futuro. Ma la cosa che mi affascina della tua storia è che tu così giovane lasci comunque Ravenna per trasferirti in Trentino, da sola poi. Sì. Cioè, senza genitori. Sì, quando... Una scelta veramente impegnativa per una ragazza così giovane. Ma ti dico, all'epoca non ci ho neanche riflettuto. Cioè, non mi sono resa conto della scelta che avevo fatto. Me ne sono resa conto molti anni dopo, quando i miei amici lasciavano casa per fare l'università. Quindi sentivo loro dicendo, ah, dobbiamo lasciare casa, lasciamo la famiglia, gli amici. E lì mi sono resa conto che io ero andata via di casa molto, molto giovane. Ma dov'è che vivevi a Tione? Cioè, vivevi in un... Allora, il primo anno l'ho fatto in convitto. La scuola era a Tione, il convitto era a Breguzzo, era gestito da delle suore, che avevano delle regole abbastanza... Ferre. Ferre, diciamo. Non sono un amante delle regole ferre. Ho sopportato il primo anno, il secondo no. Quindi dall'età al secondo anno sono andata in un appartamento a Pelugo, un altro paese lì vicino a Tione. E quindi poi ho vissuto lì per tutti gli anni del liceo. Ecco, e quindi hai finito il liceo, uscita del liceo, quindi cosa sei diventata subito? Maestra di snowboard o hai dovuto accedere ad altri esami? Allora, il primo esame che abbiamo fatto è stato quello di accompagnatore di media montagna. Perché durante il liceo abbiamo fatto già la prova fisica, che è un dislivello da percorrere un tot tempo, e anche la prova di orientamento. E poi abbiamo sostenuto l'esame teorico a ottobre, e quindi a ottobre sono diventata accompagnatore di media montagna. Poi abbiamo fatto gli ultimi moduli per il corso maestri di snowboard, nel mio caso, e insieme alla formazione trentina, classica, a novembre abbiamo fatto gli esami da maestri. E tu hai iniziato subito poi a esercitare queste due professioni? Sì, ho avuto la possibilità di entrare nella scuola di sci di Campitello, come maestra di snowboard, e di iniziare subito a lavorare con loro, e invece come accompagnatore ho iniziato poi dall'estate successiva. Essendo così giovane, cosa ti dicono i clienti? Nel senso, ti riconoscono comunque come un'insegnante valida, nonostante appunto la giovane età, o hanno qualche perplessità? Allora, per quanto riguarda lo snowboard, diciamo che quasi nessuno mi dà l'età che ho, anche perché sono tutta bardata, con casco, maschera, quindi non si vede neanche tanto. Per quanto riguarda l'accompagnamento, che si vede sicuramente molto di più la mia faccia, quindi l'età che posso avere, magari all'inizio c'è un po' di, non pregiudizio, però magari un po' di distanza, no? Poi però io cerco sempre di lavorare con passione e se riesco a trasmettere questa passione mi viene subito riconosciuta la professionalità che spero di dare, che cerco di dare sempre. Scusa, poi mi hai detto una cosa, non so se la ricordo giusta, che tu sei specializzata soprattutto in gruppi sudcoreani? Sì, sì, come accompagnamento d'estate sì. Ho un amico che è coreano ma vive a Bolzano e lui organizza una sorta di agenzia di viaggi per i coreani che vengono a fare le vacanze e i trekking in Dolomiti e io ho la possibilità di lavorare con loro. Ed è anche interessante perché vedi anche una cultura completamente diversa, mi permette di praticare l'inglese e lo trovo interessante. Parli inglese molto bene, quindi? Me la cavo, sì, dai, me la cavo. E anche tedesco? No, rimaniamo sull'inglese. Ma e quindi vengono tanti sudcoreani nelle Dolomiti? Sì, sì, si sta ampliando sempre di più il turismo con le persone sudcoreane. Anche vedo in giro per le Dolomiti tantissimi altri gruppi, quindi non solo quelli che possono lavorare con me e sempre di più questo turismo si sta ampliando. Vedo anche in certi rifugi dove i coreani vanno spesso che hanno messo addirittura il menù con la traduzione in coreano. Quindi penso che anche nei prossimi anni, coronavirus a parte, si svilupperà ancora questo turismo. E quindi riesci comunque a lavorare bene sia d'estate che d'inverno. Sì, sì, fino adesso sì. E dopo, insomma, hai deciso anche di intraprendere i corsi guida perché appunto uscita dalla montagna puoi già avere un curriculum significativo per poter accedere ai corsi o hai avuto bisogno ancora di fare altre pratiche? Allora, diciamo che tutto quello che fai con il liceo della montagna non può essere messo nel curriculum per diventare guida. Perché lo fai sempre con degli istruttori delle guide o delle guide alpine. Quindi tendenzialmente, salvo rarissimi casi, anche l'arrampicata si svolge da secondo. Comunque non sei il capogruppo, diciamo, che invece è importante quando poi presenti il curriculum che le ascensioni che presenti siano state fatte da capocordata. Quindi se uno ha intenzione di intraprendere i corsi guida è fondamentale che durante gli anni del liceo o dopo, se non ha potuto, durante gli anni del liceo si prepari da solo, con gli amici, con chi può, in modo da avere un curriculum adatto ma soprattutto una preparazione personale adatta ad affrontare il percorso del corso guida. Ecco, nel tuo curriculum che ha scese avanti, diciamo? Allora, io ho fatto, mi pare, più di 370 scese di diolunghe. Quindi adesso sceglierne solo qualcuna. Quella tua del cuore, quella che ti piace, ti è rimasta impressa. Allora, adesso una che mi viene in mente è la Via Priz al Chavazzes perché è stata aperta da Luca Prinot, appunto questa guida che mi ha iniziato al mondo dolomitico. e da Erwin Ritz è una via di 7B alla quale sono veramente legata perché è stata aperta da Luca e che quindi porto sempre con me. E per quanto riguarda quindi lo sci, venendo comunque, essendo maestra di snowboard, non hai problemi. Ecco, raccontaci come stai affrontando i corsi da guida, che step si è arrivata dopo, insomma, questa interruzione anche per il coronavirus. Sì, io con i corsi guida avrei dovuto finire a questo giugno con l'esame di alta montagna, però alcuni esami invernali sono stati purtroppo annullati o rinviati a data da destinarsi e quindi probabilmente poi finirò l'inverno prossimo con gli esami che mi mancano. Questo corso guida è stato diverso da come me lo aspettavo. Io l'ho iniziato veramente che ero giovane. E quanti di tre anni fa l'hai iniziato? L'ho iniziato nel maggio 2018, quindi avevo 20 anni. Sei la più giovane o ci sono i tuoi coetanei? C'è un ragazzo, anche lui del 98, del mio anno, che sta facendo anche lui i corsi con me. Comunque come ragazza sei la più giovane. Sì, 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 come ragazza sì. Mi sembra veramente un'età insomma piuttosto, c'è 20 anni per diventare guida, è un'età insomma parecchio, sei parecchio giovane ecco. Quali sono le difficoltà nell'affrontare tutto questo per una ragazza come te? Ma allora, quello che ho visto durante questi corsi guida, più che la difficoltà che c'è fisicamente, mentalmente, legata agli esami, alla pratica, comunque un tour de force, perché sono anche molto vicini alcuni, ma è stato difficile dal punto di vista personale proprio, perché mi sono trovata in delle situazioni in cui non mi ero mai trovata, situazioni di difficoltà anche. e ho dovuto reagire e spesso non mi è piaciuto come ho reagito, non mi è piaciuto come ho affrontato determinate situazioni e quindi ho visto parti di me che non mi piacciono, che non mi sono piaciute e quindi è stata una scoperta di alcuni lati del mio carattere, alcuni lati con cui devo per forza convivere, alcuni lati che pian piano provo e proverò a cambiare e sicuramente è stata una crescita e sarà anche nei prossimi mesi una crescita. Quindi credo, quello che per ora mi porto con me dal corso guide, oltre alla preparazione tecnica che ti lascia sicuramente, ma è proprio una scoperta di me stessa, un continuare a capire chi sono e cosa faccio, cosa faccio di fronte alla situazione di Vittoria, come reagisco di fronte a una situazione di sconfitta, di dolore, di gioia e credo che sia fondamentale poi quando ti trovi a accompagnare altre persone in montagna a capire subito come reagisci tu di fronte a una situazione in modo da rassicurare gli altri. Non devi essere tu il primo a portare caos o a portare difficoltà. Ecco, tu devi essere fermo nelle tue decisioni, devi essere sicuro, attento, premuroso e credo che lavorando su se stessi, scoprendo se stessi, si possa fare. Scrive Stefano, visto che avresti dovuto finire da giugno 2020, come sono andati gli esami di cascata e gulotte che sono avvenuti prima del covid? Allora, l'esame di gulotte è stato diviso in due parti e solo metà allievi hanno potuto fare l'esame. e l'esame di ghiaccio ho intenzione di farlo l'anno prossimo, quindi vedremo l'anno prossimo. Senti, cosa c'è appunto questo esame di ghiaccio? Ti spaventa particolarmente o sei serena? Beh, ghiaccio è una disciplina che non amo, diciamo. Ok. Ho freddo io d'inverno, non amo troppo il freddo e su ghiaccio patisco tanto il freddo. Però sono veramente convinta che l'allenamento sia la chiave di tutto, insomma, per quanto riguarda la preparazione personale, no? E quindi penso che allenandosi uno riesca poi ad affrontare anche discipline che non adora. Senti, essendo così giovani, avverti magari un pregiudizio da parte degli altri corsisti o hai paura che un giorno che diventi guida ci possano essere dei pregiudizi nei tuoi confronti? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè sugli altri corsisti, non ho mai avvertito questa cosa, però io cerco anche di di farmi rispettare, tra virgolette, cioè se mai dovessi avvertire una cosa del genere sicuramente proverei in qualche modo a far capire o a parlarne o a dimostrare che nonostante io sia giovane posso sbagliare come gli altri, posso fare bene le cose come gli altri e che quindi non è l'età che deve essere valutata ma è come agisco, quello che faccio, chi sono e invece per quanto riguarda come mi vedranno gli altri gli eventuali clienti, ospiti che accompagnerò, sinceramente non ho mai non ci ho mai pensato, quindi quando poi succederà vedremo, vedremo. Cioè come affronti te la paura della paura di quello che ti aspetta e la paura di portare poi anche che poi non so se si può definire paura appunto però di accompagnare delle persone più grandi di te anche in montagna magari non è paura scusa magari mi sono espressa male però hai qualche timore di questo tipo? Ma io cerco di essere preparata al meglio per quanto riguarda l'aspetto fisico l'aspetto psicologico tecnico cioè cerco di crearmi una base molto sicura in modo che io sia sicura quando porto qualcuno a fare una determinata attività in questo momento ti direi che non porterei mai nessuno a fare un'attività dove non mi sento sicura neanche se percepisco dei rischi o se percepisco che lui non possa essere pronto per primo a fare questa attività ma proprio io voglio essere pronta io devo essere sicura al 100% anche quando accompagno con il trekking ovviamente è tutto molto diverso sì certo o quando insegno quando insegno devo portare qualcuno nello snow park io devo essere sicura al 100% di quello che sto facendo prima di poter portarci gli altri quindi cerco sempre di costruirmi una solidissima base personale per accompagnare gli altri per avere una sicurezza in più sì sì brava nel senso che sei molto entusiasta molto appassionata questo penso che sia importante anche l'aspetto appunto come dicevi lavorare sulla parte psicologica perché comunque a 20 anni insomma sono tante le emozioni fattori o comunque manca un po' quella quell'esperienza di conoscersi sicuramente sicuramente poi ognuno ha la sua storia di vita ognuno ha le sue esperienze e quindi e se le porta con sé indubbiamente quando quando vai in montagna ma quando vive si porta con sé il suo bagaglio di esperienze più uno acquisisce queste esperienze più uno riesce a vedere se stesso in determinate situazioni più si conosce senti cosa che messaggio lancia alle tue coetanee che come te magari sognano di diventare guide allora quello che vorrei dire è che io ho sempre pensato e continuerò a pensarlo che nel lavoro nella vita debba vincere chi lavora sodo chi si impegna chi ha passione chi ha tenacia chi trasmette questi valori e quindi indipendentemente da da essere un ragazzo o una ragazza io consiglio di credere in se stessi di credere in quello che si fa di crederci fino alla fine di avere passione di avere voglia di fare perché solo così tutti i sacrifici che si fanno avranno senso solo così quando ti chiederai perché lo sto facendo ma chi me l'ha fatto fare troverai una risposta che ti porterà ad andare avanti ecco sai che insomma qua tu come tenacia ne hai da vendere a chi è che ti ispiri? c'è un alpinista uomo o donna al quale ti ispiri maggiormente? allora diciamo che per ispirarmi a una persona di solito preferisco conoscerla non mi basta che sia un forte alpinista o forte scalatore quindi di famoso che potrei citarti in questo momento così su due piedi direi di no ho tantissimi buoni esempi tantissimi buoni esempi ad esempio come ti ho detto Luca per Inot che è stata una guida che mi ha iniziato a questo mondo e che era una bravissima persona una persona buona che spesso si sottovaluta come dote ma lui era proprio buono 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 ha dato la vita per gli altri è morto facendo soccorso alpino e adesso mi commuovo tra poco e quindi lui proprio è è un buon esempio ti manca abbastanza lo vedo era come insomma una figura importante per te visto che anche la tua famiglia magari era anche lontano e anche adesso magari lontano sì 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 poi io ho la grandissima fortuna di poter scalare con i miei familiari perché posso scalare con mia mamma nel suo piccolo sì l'ho portata a rampicare più volte mi segue nelle mie avventure anche se in realtà non le piace rampicare lo fa per te una mamma per la figlia lo fa e poi ho il grandissimo privilegio di poter condividere tantissime avventure con mio babbo perché come ho detto è stato fondamentale all'inizio e lo è adesso scaliamo tantissimo insieme e poter condividere questo col proprio babbo è tanta roba e poi un giorno mi piacerebbe portare anche mio fratello a fare una via che tra le persone che conosco tra i miei migliori amici e i miei familiari è l'unico che non ho mai portato quindi arriverà quel giorno so che mi stai guardando e arriverà quel giorno senti tu è compagno compagno di cordata è oltre ai tuoi familiari allora quello diciamo con cui scalo di più è un mio coetaneo qui della Val di Fassa Christophe è un fortissimo alpinista e siamo anche molto diversi come carattere quindi ci completiamo perché se dovessi andare a rampicare così tanto spesso con una come me mi tagliereile bene cioè non ce la potrei fare in più col mio migliore amico sono riuscita ad andare a scalare in Australia a novembre quindi anche con lui mi trovo benissimo e mi diverto tanto e mi piace anche variare comunque compagni di cordata in base al genere di salita diciamo che se devo fare qualcosa di impegnativo preferisco andare con chi conosco bene di cui mi fido quindi hai fatto anche esperienze insomma all'estero sì allora fuori dall'Europa sono andata in Australia a rampicare che è stato un viaggio incredibile cioè la rampicata in Australia è qualcosa di completamente diverso a quello a cui siamo abituati a parte il posto dove sei a parte la natura che ti circonda gli animali che ci sono proprio la rampicata è solo con protezioni veloci quindi non esistono le soste a spit non esistono le soste a chiodi le discese ti dicono di scendere per delle easy descent che proprio easy non sono quindi anche la discesa è tutta da studiare e poi ho scalato in vari paesi europei però devo ammettere che il Trentino è la mia location preferita va bene spero che insomma sono contenta che hai fatto questa live con noi perché ci mancano a volte queste parole fresche diciamo persone anche giovani che diano messaggi incoraggianti positivi eccetera eccetera come ti stai vivendo questo periodo rinchiusa in casa in Val di Passa non è facile soprattutto abbiamo dovuto interrompere la stagione invernale e già quello è stato difficile però ovviamente è necessario chiudere gli impianti secondo me è stata una cosa fondamentale da fare in più io in questo periodo della primavera di solito viaggio tanto ho un furgone dove posso dormire dentro quindi sono sempre in giro e passare dal essere ogni giorno in una falegia diversa all'essere in casa nonostante io abbia la possibilità comunque di arrampicare un po' vicino al mio garage che ho un piccolo muro abbia il trave abbia possibilità di correre nel giardino però non è facile adesso vediamo nei prossimi giorni sembra che stiano allentando un po' le misure quindi speriamo di tornare a fare quello che tutti amiamo forse dal 4 maggio pare che possiamo andare almeno fare qualche sport individuale come corsa e bici tu cosa inizierai a fare? adesso voglio capire bene cosa si potrà e cosa non si potrà fare però se si potrà arrampicare andrò a arrampicare proprio subito e quello non so se si potrà da subito bisogna leggere tutto il decreto di Conte voglio vedere bene quello che succederà però quando si potrà arrampicare io quel giorno sarò lì sicuro senti l'ultima domanda fra 30 anni quindi sarei una cinquantenne donna di montagna come ti vedi? dove ti vedi? spero innanzitutto di essere felice quindi indipendentemente da dove sarò e da quello che starò facendo spero di essere felice mi vedo spero di essere la guida nel frattempo beh dai 30 anni dovrei fare 30 anni hai a disposizione di altri 30 anni credo che ce la farai spero di poter continuare a arrampicare le montagne che amo di più spero di poter continuare a fare snowboard a girare liberamente spero di essere libera in generale di poter essere felice ogni giorno di poter svegliarmi la mattina e andare a fare quello che amo di poter tornare a casa la sera e aver dato il massimo essere stanca e il giorno dopo ricominciare di nuovo da capo bello in questo momento sogniamo tutti tanti la libertà senti grazie benedetta come sempre questa diretta rimane per 24 ore ma soprattutto potete andare a leggere appunto la sua storia sul nostro blog donadimontagna.com e grazie per la tua testimonianza e ci sentiamo presto ciao a tutti ciao ciao ciao